Quella sensazione che percorre il tuo corpo si chiama paura. La paura di non sapere se hai la forza per riuscire a sopravvivere. Hai davanti il tuo avvocato che ha fatto un giuramento pubblico, ma ha scelto di non proferire parola per ottenere dei benefici personali. Da quando il dispositivo comincerà a girare, hai 30 secondi per rallentarne il movimento, altrimenti le perforerà gli occhi e la bocca. Devi entrare nell'altro congegno e sollevare le sbarre nella posizione più alta per un tempo sufficiente a bloccare il circuito e neutralizzare il dispositivo. Se non lo farai, lei raggiungerà la morte prima che il tempo sia scaduto. Sarai in grado di aiutarla, Poppy. A te la scelta. Poppy, che bravo! Ti prego, Poppy! Fammi uscire! Fammi uscire, cazzo! No! No! Oh mio Dio! No! Poppy, che bravo! Ti prego! Aiutami! Ti prego! Sbrigati, sbrigati! Forza, Poppy! Ti prego! Fai fretta! Poppy, sbrigati! Dai! Ti prego, Poppy! Sbrigati! Oh mio Dio! Fai fretta, Poppy! No! Fai fretta! Sbrigati! Sì, Poppy! Bravo! Sì! Una! Non continui, non continui! Sì, papi! No, no, no! Mi prego! Papi, per favore! Mi prego! Papi, per favore! Mi prego, salve! No! Mi prego, salve! No! No! Non mi prego! Papi, no! 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 Uh! Ah! Sheesh! Ah! proprio! va